La nostra azienda lavora da più di 40 anni nel mondo della movimentazione merci, fornendo mezzi e soluzioni integrate proprio per la distribuzione e la movimentazione delle merci. Perché avete deciso e scelto di partecipare ad Agora? Questo per noi è un appuntamento fisso, ormai sono 3 o 4 anni che partecipiamo, è un momento di incontro, di confronto e soprattutto di conoscenza, anche perché il territorio è un territorio piccolino, dove molte realtà non si conoscono e questo è un momento per poter rappresentare e far conoscere la propria realtà. Cosa vi aspettate? Beh, sicuramente come tutte le cose è un appuntamento di business, quindi la speranza è sempre quella di poter stringere nuove collaborazioni e nuove forniture. Grazie a tutti!